Un assalto armato per portare via ad un portavalori 70.000 euro i soldi delle pensioni destinati all'ufficio postale di Sternatia. La panda con il denaro, il mezzo della Cosmopol, viaggiava sulla strada che porta al comune grico imboccato lo svincolo della Statale 16. Alla guida un uomo solo. Alle 8 del mattino un assalto. I banditi in due su una lancia libera sapevano che l'auto sarebbe passata di nì. Non appena la panda ha imboccato lo svincolo l'hanno raggiunta e speronata. Il vigilante è stato fermato, li hanno puntato contro un fucile e tolto i soldi. Erano in due, incappucciati. Con il denaro ormai nelle loro mani sono fuggiti su un'altra auto di colore bianco guidata da un complice. Non prima di aver dato fuoco alla Libra qualche metro più avanti per eliminare ogni traccia. La vittima sotto shock ha chiamato i soccorsi e in poco tempo l'arteria si è riempita di pattuglie della polizia e di una squadra dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che avvolgevano l'auto. Poi sopra luoghi e la ricerca dei banditi anche con un elicottero. Le indagini sono affidate alla squadra mobile che ha ascoltato il vigilante che ora sta cercando elementi utili ad identificare la banda che ha organizzato tutto nei dettagli.